Se Renzi secondo lei però effettivamente potrebbe essere il candidato del Partito Democratico per delle elezioni ravvicinate? Beh è una delle ipotesi sicuramente che si fa, del resto Renzi ha partecipato con grande coraggio alle primarie, è arrivato secondo, ha fatto comunque un ottimo risultato, è riconosciuto dal Partito come uno dei leader e quindi sicuramente vorrà fare le primarie e quindi riproporremo il metodo che ci siamo fin qui dati. E si ricandiderebbe Berzani a queste eventuali primarie o ci sarebbe un altro? Non lo so, questo guardi non glielo so dire. Noi abbiamo sempre ribadito grande fiducia e anche in questa fase della nomina dei saggi abbiamo confermato che sia stata la scelta giusta da parte del Capo dello Stato proprio per riuscire a parlare di cose, di provvedimenti e quindi di questioni concrete, per cui noi confermiamo la nostra stima, la fiducia verso Napolitano e io personalmente ovviamente lo rivoterei. Ma come si fa a pensare che sia credibile un'ipotesi di governissimo tra PD e PDL? Io mi chiedo davvero come i commentatori riescono ancora a presumere questo tipo di accordo. Come si fa tra due forze che si sono battute aspramente, che hanno una visione dell'Italia, dell'economia, dello Stato sociale così diversa, impostare una discussione in questi termini? Io penso che la proposta di Berzani sia stata veramente e sia ancora l'unica ad essere credibile. c'è questo doppio registro, c'è un registro che riguarda le riforme costituzionali e che deve necessariamente vedere anche il PDL in corsa e protagonista di questa fase e invece un governo di cambiamento che deve essere un governo guidato ovviamente dal PD che si rivolge ad altre forze ma che inevitabilmente vede l'esclusione del PDL, ma perché dal punto di vista programmatico siamo distanti. Grazie a tutti.